Prima Toscani che ci ha dipinto noi veneti come dei trenarciuti avvinazzati a caccia di vino dalla mattina alla sera definendoci degli ubriaconi. E poi arriva l'Aitizetto che la chiama Satira, prima definisce i maestri vetrai di Murano come degli sproveduti che fanno dei gatti storti. E adesso rincara la dose raccontando le terme padovane come una sorta di ospizio vacanziero per i vecchietti. Ecco, a entrambi mi sento di dire fuori di Satira che mentre voi ci dipingete come degli ubriaconi, noi in realtà il vino non lo beviamo ma lo vendiamo. Visto che il Veneto è diventato il più grande esportatore al mondo divino, al mondo divino. I maestri vetrai di Murano non hanno nemmeno bisogno di essere difesi perché si difendono con la loro arte che quotidianamente regalano al mondo intero. E per quanto riguarda le terme di Abano e di Montegrotto e dei comuni limitrofi, vorrei ricordare a L'Itizetto che queste terme in realtà ogni anno ricevono migliaia e migliaia e migliaia e migliaia di tuisti di tutte le età. Perché? Perché qui trovano un'acqua, trovano i fanghi e trovano dei servizi unici al mondo, altro che Ibiza. E mi raccomando, artisti, artisti, che non vi scappi mai di difendere l'Italia. Ecco, mi raccomando, parlate pure della Spagna, parlate di Ibiza. Ecco, mi raccomando, soprattutto in questo momento di pandemia e di sofferenza estrema dei nostri imprenditori, mi raccomando, parlate degli altri paesi. Mi raccomando, la satira.